Siamo con Giacomo Siniega, classe 2002, centrale difensivo, fresco campione d'Italia con l'Empoli, adesso però fresco unionista. Due giornate di campionato e le tue prime impressioni? Le impressioni sono state ottime, soprattutto la prima giornata con il Modena siamo stati, direi, quasi perfetti, quasi. Abbiamo fatto una partita incredibile dal punto di vista tecnico e tattico, infatti abbiamo strappato un punto a una squadra che è proprio una corazzata. Mentre Pistoia siamo partiti un po' male e poi abbiamo ripreso, abbiamo preso in mano le redini del gioco e il pareggio ci è stato stretto. Però le impressioni sono più che ottime. Senti, sappiamo che potevi andare anche alla Carrarese, squadra della tua città, immagino che tu ti fai anche per i colori giallo-azzurri. Detto questo, il tuo primo periodo più a Grosseto, credo che tu ti stia trovando bene, tu ti stia inserendo estremamente bene. Sì, sì, qua sono subito partito bene col gruppo, mi sono integrato subito alla grande, anche grazie ai più grandi, più esperti e poi anche ai più giovani, ci siamo subito legati, che alla fine giovani però sono tutti tutti bravi, intelligenti, quindi ci riteniamo un bel gruppo. Bene, insomma i tuoi propositi per quest'anno? I miei propositi li ho già detti e spero di fare più partite possibili e di portare Grosseto almeno a quanto ha fatto l'anno scorso. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille.